musica 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 Donkey Kong Country Returns è un gioco figo siamo tornati con Donkey Kong Country Returns io sono abcp45 sono qui confuso scusa ho parlato posto dobbiamo fare la fronda pendente facciamo vedere l'inventario abbiamo il cuore che bello però non lo attiviamo cioè gli oggetti che possono essere usati soltanto da una persona se non sbaglio beh se ne abbiamo uno si si fronda pendente forza non capisco che inserchi animali sono questi qua un uccellacido insomma ops wow dei uccelli che non volano nooo nooo lì mi sembra che c'è una piattaforma si ops monete ma lì c'è un posto segreto mi sembra no aspetta prendi il barile aspetta e scuoti cosa devo fare? lascia via e io come arrivo? dopo un paio di secondi ti trasporti oppure torna indietro no vabbè dai no aspetta maledizione perché di là c'è un soffione vabbè e magari c'è un pezzo magari c'è un pezzo del paio sì là c'è un soffione che nasconde un pezzo del paio non fa niente vabbè vabbè l'importante è che lo sanno occhio ste rane sono diverse da quelle verti quelle gialle si spostano a quelle verti ma sono quelle bastardi sì soprattutto negli speedrun che ovviamente rompi i coglioni nooo fa un cuore bello faccio dai mi fido di te confuso vai non fa niente si prova magari trovi un brì poi mi sembra più avanti che è un bariere di cappa soffia vabbè qui arrivo meglio che arrivo io perché magari è la runata ne ne impatti intanto poi a queste run le facciamo fregare tanto qui credo che si sblocca si vabbè dopo vedete si ecco direttamente sui banali si ferma ok qua sotto si trova il rinoceronte rinoceronte che non ricordo mai come si chiama c'era un nome però non mi ricordo come si chiama Winky no boh boh io prendo questo qua sopra io prendo questo qua sopra quelle sotto sono difficili da prendere le sono tante prendi quelli in basso e te li io prendo io no 78 banane e due gettoni monete si si qui potremmo guidarle tutte e due però meglio che lo guidi su uno però poi si fa gli sbagli si ah intanto vi ho già fatto vedere che su qui si rompivano tutti e tre i blocchi si prendeva una un come si chiama pezzo del pasco si si comunque i comandi del rinoceronte sono più o meno gli stessi del Donkey Kong e Diddy si l'estero oh yeah comunque con il rinoceronte basta toccare il nemico tranne quello di fuoco e si uccide non si può soffiare quindi scendo un attimo poi salgo vado io aspetta aspetta qui c'è il segreto bellissimo qua difficilità yeah sono troppo bravo ok un altro pezzo del puzzle è nostro ok ok questa rana aspetta qui qui bisogna soffiare qua c'è pezzo del puzzle è una miriade di banana io scendo scendo si io soffio anche qua no mi hai tirato su aspetta ahhh ma tutti i pezzi del puzzle ah è vero perchè il primo non l'abbiamo preso vado ma non abbiamo neanche la G vabbè fai niente chi se ne frega vado tante 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 tutti i pezzi del puzzle no vabbè il primo che non l'abbiamo preso perchè c'è il soffione a destra ah si giungla ok ora possiamo andare o sopra o sotto se abbiamo già preso andiamo sopra dai no facciamo prima la livello 4 sponda dorata ah già si prendiamo in ordine sponda dorata mi sa che è quello del tramonto bello questo qua è bello però è bastardissimo allo speedrun che non l'ho ancora fatto perchè tanto ho deciso vabbè prima faccio tutto il gioco è a livello più figlio del primo mondo spezza puzzle ho già preso lettera baril noi quando muori te lo uso mi sa che così mi sa che così mi ricordo come fece l'ospedale e io aspettami al barile mi hai scappato si si ma per tanto io sto facendo un po' il fio così invece ci spugli idioti rana se si scuote queste piattaforme si raddrizza e se si scuote se si se si se si poi di o se si scuote Qui c'è il bonus, c'è il checkpoint insomma, il maiale, qui c'è il mostro, qui c'è, va dire, qui si sta fermi, se si sta fermi si, si apre, qui non abbiamo tutto, ma dai magari torniamo indietro, mi sembra che c'era un pezzo nel caso, c'è una N, Faccio io, va, oh io, andiamo, spe, qui c'è il segreto, ma si, no, via, qua, occhio, questo è anche quello dopo, spe, bravo, grazie, Qua, ci sa qualcosa, lettera, no, falsa, aspetta, proviamo una cosa, cosa, magari qua, magari c'è un segreto, può, vieni, spe, c'è il G, no, qui c'è il G, ci manca quanti pezzi, uno, scusa, ti ho tirato la gerocchia, No, ho perso un palloncino, aspetta, qui dobbiamo scuotere, ci sarà qualcosa, guarda qua, una moneta, spuccata dal nulla, vabbè, Abbiamo quasi finito il livello, eh, qui non c'è niente, aspetta, prima di rompere bisogna salire, sennò non si può più prendere l'altro pezzo, come abbiamo fatto noi l'altra volta, la prima volta che abbiamo fatto, Soffione, qui è segreto, pezzo, abbiamo preso tutti i pezzi, e tutte le lette, e adesso dov'è che andavamo così andando ad andare qua, così scivola, no, è già finito di scivolare, vado? Sì, siamo a nove minuti e mezzo, quindi facciamo un altro livello, giungla, che è il primo momento, Adesso facciamo questo, chioma cannone, non me lo ricordo, non me lo ricordo, Grazie, mi sembra, no, boh, ah sì, poi c'è il pieno di segreti, credo, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, ma mi sa che mi sbaglio, dai, no, questo è il livello con tutti i bariri, Ma come cazzo, no, come cazzo, no, come cazzo, non so, sono un mano, yeah, Aspetta, però, ecco, pari, pezzo del puzzle, pezzo del puzzle, no, no, abbiamo in cuore, sì, vabbè, Facciamo finita che non sia successo niente, colpa di queste stupide rane, Ok, vengono anch'io stavolta, faccio io cose di bariri, Sì, non cazzo male, vabbè, a parte cosa sto già facendo io, Ok, qui ci sono i soffili, c'è i nomi soffili, cosi che tassi, Il pezzo del puzzle che avevo preso prima, Mi devi sempre fare male, Aspetta, ho paura, sotto vado io? Sì, aspetta, Qua mi sembra che se andavi sotto? Sì, infatti, qua sotto, Ho scoperto io? Sì, ma lei è per culo, Ehm, uccelli rossi, Non neri, ma rossi, Posso scendere? Ah, bello, Faccio io o faccio te? Faccio io, dai, Dai, Non devi beccare il bariri, Adesso fai te, È un po' impossibile, No, 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 Perdonate, Tornare indietro, Magari c'è qualcosa? Checkpoint, Dai, Magari moriamo, Luff, Cosa? 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 Ok, Ok, Torniamo davanti, No, Ma hai scoperto che qui sotto c'è un bariri? Sì, Grande, Wow, Scopro tutto, Ecco perché non sei morto, Vado io? No, Vado io, Dai qua, Ehm, Tac, No, Va bene, Vado io, No, No, Vado io, Abbiamo lasciato indietro una lettera, Ma qua niente, Se qua si va qui, C'è un segreto, Ah, Wow, Qui è bellissimo perché, No, Dopo, Vado io, Yes, Qua, Venda veloce, Lo sky bastardo è il bariri, Anche questo, Anche questo, Torn, Torn, Non è che magari qua sotto c'è un bariri, Ci sono altri bariri, Vado io, Dai il rischio? No, Tanto, Tanto che se ci fosse, Non è che scopri qualcosa, Cosa? No, Vabbè, Oh, Yeah, Banane, Torn, 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 Non è finito anche questo livello, Cog, Cog, Non abbiamo preso, Non è che non è per far niente, E neanche la stella, No, No, La stella non si prende, La stella si prende per un minuto elettro, Siamo a 14 minuti, Fremiamo qua, Fremiamo qua, Andiamo a comprare qualcosa, Non lo vediamo, Qualche, Qualche vita, Qualche palloncino, Hai già provato, Salta rotolante, A noi scimmie, Le rigida fisica, Non servono, Prendiamo, No, Posso provare, Prendere sia pagale, Che pozzine banana, Lo prendiamo, No, Non servono a niente, Infatti non uso ma, Tanto se si è già, Le si è già i pezzi del puzzle, Si, Poi, Poi sono troppo bravi, Vabbè, Non compriamo niente, Un palloncino, Così, Tanto ci sono tre, Visto per comprare, Ci piace il numero 15, Mi congratulo per la scelta, Grazie, Esci da Bazzazzar, Quando deve uscire da Bazzazzar, Ehi, Non mi aspetto di rivederti, Non potresti avere fortuna, Dopotutto, Vabbè, Chi se ne frega, Noi ci salutiamo qua, E ci vediamo alla prossima parte, Del book track, Di Donkey Kong Country Returns, Ciao a tutti, Ciao,